Dopo una giornata di intensi scontri, i marini americani sono penetrati nella città dove Al-Assad si è rifugiato. Il conflitto si è ulteriormente inascritto nella capitale, dove il fuoco delle guerre è necessario. Confermo la posizione, ripeto le coordinate 5, 2, 7, 6, 1, 9, passo. Ricevuto, bravo 6, passo. Passo, bravo 6, un Abrams è bloccato in acqua, signore di chiamata Warpik. Mette Vasquez, la vostra unità è vicina, passo. Ricevuto, bravo in arrivo. Dite a Warpik di attendere. Arriviamo. Chiudo. Il carro armato della compagnia Alfa è bloccato a 500 metri a sude da qui. Andiamo! Muoversi, muoversi! Non tocca e av... Imboscata! Imboscata! Fuoco di compressione su quell'edifico. Dobbiamo avanzare! Continuate ad avanzare! Alta il suo piano! Parisi, aprite il fuoco! Arma, portiamo le scale per attaccare le piatti. Bravo, copriteci! Andiamo, Tessol, seguimi! Attiva subito i fissori, non furono! Uno in meno! Jackson, tu e Roycevic, andate di sopra! Noi copriremo questa entrata, andate! Nel secondo piano! Assun ivi spauvi! Assange qui sparo! Siamo in secondo piano! Libero! La loro mitragliatrice è chianchi! Libero! La loro mitragliatrice è chianchi! Libero! Un'altra giù! Spare gli effetti! Spare gli attraverso il muro! Attenzione, truppe nemici in arrivo verso il carro, raggiungetelo subito! Ricevuto! Ci stiamo lavorando! Chiudo! RFG! Granata! Granata! Muovetevi! Signore, è pieno di rivici là fuori! Sta zitto! E tienili fermi! Ricevuto! Fuoco di tornessione! Voto! Sì! 23, 26, 26, 26, 26 ... B L'UAP da ricognizione ha individuato cari nemici. West, sali sottetto e fai risaltare col Shaverine. West è a terra, West è a terra, prendi il Shaverine e fai risaltare con i carri armati. Jackson, prendi il Shaverine e fai risaltare con i carri armati. Fidirei veicoli dall'altra parte del posto, presto! Jackson, al secondo piano, elimina quei carri armati! Jackson, al secondo piano, vediamo il suo ruolo di un'altra parte del posto! Jackson, al secondo piano, vediamo il suo ruolo di un'altra parte del posto! Trovo sei la nostra posizione a nord del cavalcavino, è sottofuoco pesante, dove indiamolo siete? Siamo quasi arrivati, resistete! Il carro è dall'altra parte del cavalcavino, a nord, a nord, a nord. Stanno cercando di scappare! Alfa sei, rapporto, passo! Siamo ancora a circondarti, signore! Siamo rimasti in quadro, ma il carro è ancora ok, passo! Le vizie est e altri cercano da sud, dipendete l'aria! Bravo sei, poi Warpik! Il calore è fuori uso, ma abbiamo ancora la mitragliatrice! Hanno gli esplorativi, non fate riempirare il carro! Bravo sei, altre porte in assentramento a ovest della vostra posizione, passo! Due Charlie, bravo sei, richiediamo supporto aereo per la missione, passo! Negativo, bravo sei, se un oggetto più nemico a sud della vostra posizione e che non verrà eliminato, non potremo rischiare inviando altri elicotteri, passo! Jackson, elimina quello Z-Piu e consente l'invio di supporto aereo! Lopez, Kane, scoguitelo! Bene, muoviamoci! Sorvegliate lo Z-9, forza! Come on! E' 7! Tenete in fondo pressione! Jackson, indichiamo la nostra posizione al supporto aereo. Piazza il trasmettitore IR e guidali qui. Chiudo! Segnale rilevato, identità confermata. Arriviamo a tutta velocità da nord-est. Attendetemi. Facili fuori! Ehi, dove? E' rimasto ancora qualcuno laggiù. Negativo, li abbiamo presi tutti. Comando, aria di atterraggio sicura. Mandate ingegneri. E' ora di far muovere il carro. Ricevuto. Ingegneri in arrivo. Buon lavoro. Chiudo. Squadra, ad unarsi davanti al carro. Muoversi! Ascoltate. Dobbiamo portare il carro immediatamente via da qui. Staremo in assetto difensivo qui, qui e qui, nel fanno. E prenderemo tempo finché ingegneri faranno partire il carro. Chiaro? Staremo in! Where è? 起來 Pengalo in Gio Pengalo in Gio sisal